Samuel Favrette Sì, domenica scorsa purtroppo è andata come è andata, nonostante abbiamo giocato molto bene. Questa partita qui invece siamo rifatti molto bene, siamo arrivati tante volte avanti alla porta. Non siamo riusciti tante volte a concretizzare il gol, però tre gol bastano e avanzano per questa vittoria. Diciamo che all'inizio della gara la Coiopelli non dico che vi abbia messo in difficoltà, però ha opposto una certa resistenza. Sì, vero, nonostante tutto siano tanti giovani, però dopo la partita, il secondo tempo abbiamo visto che abbiamo fatto meglio di loro in tutti gli aspetti. Sì, domenica prossima Real Forte Querceta, se non sbaglio in casa, una partita difficile. Io ho visto ieri la Real Forte Querceta, ha pareggiato con la Frater Sperignano, ma ha giocato una partita veramente da categoria superiore. Ritmi, cambi di campo, velocità della palla, veramente da serie D. Sarà una partita molto difficile, diversa dalle due gare di Coppa. Sì, hai detto bene, sicuramente sarà differente dalle due partite di Coppa, però poi si vede giusto sul campo. Ti ringrazio, grazie mille. In bocca al lupo.